Sono una situazione clave e noi stiamo a scherzare, non stiamo a scherzare. Il Comune sta facendo molto, si sta lavorando finalmente per la riqualificazione del lungomare nord che entro quest'anno saranno pronti i disegni e dal prossimo anno ricomincerà. La riqualificazione finò a finirla definitivamente. La foce dell'Albula è pure un progetto che partirà prestissimo. L'Ari e la Pineta, lì dietro via Pasqualetti, anch'essa è un lavoro che partirà prestissimo. A centro ancora la piazza sta per essere finita, la piazza di via Montebello, anch'essa sembra che si stia avviando una soluzione felice. C'è un programma di riqualificazione di tutti i quartieri periferici, quindi anche l'Ista ha lavorato molto. Per il cartellone? Per il cartellone di più o di meno? Per il cartellone di spettacoli è uguale, stiamo valutando la partecipazione su alcuni eventi della regione, su altri magari del consorzio o dei privati, ma insomma alla fine il cartellone degli eventi lo chiuderemo più o meno a livello delle manifestazioni dell'anno scorso. Anche qui non è che riusciamo a strafare, anche se cercheremo di mettere qualche chicca all'interno del cartellone, ma cerchiamo di fare qualcosa che diverta tutti i nostri ospiti che verranno a San Benedetto. Riguardo ai privati, mi sento chiamato in causa anche come albergatore, sicuramente i privati stanno facendo molto. Stanno facendo molto perché? Perché innanzitutto hanno dovuto mettersi in regola con tutte le leggi, la 626, che poi non si chiama più 626, ma c'è un altro nome, la legge antincendio che adesso scade, insomma probabilmente non si sa se verrà ancora prorogata. Insomma ci sono gli alberghi ormai, quasi tutti, dico io, sono ormai pronti anche ad ospitare un turismo di tipo congressuale, visto che prima parlavamo con Fausto, che ci assicurava per settembre-ottobre la fine dei lavori del Palacongressi. Quindi anche questa è una cosa che entro l'anno sicuramente entrerà in funzione, sono tante le cose che ho detto, io spero veramente che tutte vedano la luce, perlomeno entro il 2011. L'amministrazione comunale dovrebbe riuscire ad approvare in tempi rapidi il nuovo piano di spiaggia, modifiche il piano di spiaggia, se l'amministrazione accoglie la proposta largamente prevalente che riguarda la zona di San Giacomo, di via San Giacomo, dovremmo avere la possibilità, sempre se l'amministrazione e poi se i consiglieri comunali sono d'accordo, a che entro il prossimo mese inizi l'iter per l'approvazione. Questo potrebbe significare, in qualche modo ottimistica, però che dopo la prossima stagione dovrebbe andare alla prossima definitiva e quindi avere la possibilità per gli stabilimenti balneari, in questa occasione tutti, dall'Albola fino a Marina di Nicò, poter presentare progetti di adeguamento, di ampliamento, di ristrutturazione, coinvolgendo per la prima volta anche gli stabilimenti storici e via San Giacomo. Poi c'è tutta la problematica degli alberghi, qui sarebbe utile approvare il famoso piano degli alberghi, così come è previsto dalla regione Marche, che nonostante siano passati 4 anni nessun comune delle Marche ha ancora fatto. E chi vuole autofare e vuole fare degli investimenti deve andare avanti con lo sportello 1, che ogni volta è un iter che dura un anno, con tutto quello che comporta di trattativa snervante con gli uffici, con le amministrazioni. In questo caso noi abbiamo un imprenditore che ha comprato una villa per farci la zona edificabile, farci una palazzina, propone all'amministrazione comunale di volerci fare un albergo di livello adeguato. Sono due anni che fa in giro questa storia, adesso pare che sia sbloccata, però anziché dargli una medaglia come abbiamo fatto noi, tra l'altro, gli si mette un sacco di ostacoli. Questi due aspetti legati al turismo sono fondamentali, perché sono privati che grazie a loro, al loro entusiasmo, a loro voglia, vorrebbero investire. Spesso mancano le condizioni per poterlo fare, perché in qualche occasione si ha quasi l'impressione che ci sia un'opinione che guarda agli investitori, agli imprenditori del turismo quasi con... odio è una parola forte, lo vede quasi come uno che fa un lavoro che raccoglie e lavora l'oro, come se fosse, anziché la sabbia fosse l'oro, che lì tutta la gente raccoglie i soldi appalati, senza capire che lì ci lavora tutta la famiglia, lavoro sacrificato e che porta ricchezza a tutti. Quindi anziché incoraggiare, spesso ci si trova a vedere come, sembra quasi, ma come possiamo mettere i bastoni fra le ruote? Ecco, poi c'è tutta questa questione, noi abbiamo chiesto diversi incontri, da definire per quanto riguarda gli stabilimenti che fanno musica, per quanto riguarda questa ultima stagione prima del piano di spiaggia, per quanto riguarda le tende, c'è una serie di questioni che bisogna definire adesso, perché già fra qualche giorno cominciano qualcuno ai preparativi per riaprire per Pasqua, quindi sono queste. Poi le opere pubbliche, perché credo che la più grande iniziativa che fa un'amministrazione non è la festa o questo, la promozione, è rendere più bella e più pulita la città. Più è bella la città e più si fa la promozione turistica, perché di solito si va sempre in vacanza nei posti belli, difficilmente si va in vacanza nei posti brutti.